Una buona serata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana sulla A1. Prestare attenzione per nebbia a banchi segnalata sul tratto appenninico tra Aglio e Pian del Voglio. Su raccordo Siena-Firenze per lavori di manutenzione, restringimento di carreggiata dal chilometro 47 al chilometro 50. Ricordiamo che è obbligatoria la dotazione invernale a bordo, catene da neve o gomme termiche sulle autostrade. La viabilità cittadina a Firenze via Bolognese è chiusa all'altezza dell'incrocio con la strada regionale 302. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!